Dagli algoritmi matematici per l'intelligenza artificiale ad un visore che può aiutare chi lavora a operare con più sicurezza in fabbrica e nei cantieri. Enigma è un nuovo dispositivo di realtà aumentata, inventato e già brevettato dall'Università di Catania, grazie ai fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Il sistema riconosce che lui ha interagito col saldatore e in automatico si attiva l'aspirafumi. Nel momento in cui lui adesso fa delle interazioni con i vari oggetti, avviene qualcosa di inaspettato o un problema della procedura, viene attivato in automatico l'alert. Lo ha creato un team di nove ricercatori, tutti marca Trinacria. In questo progetto il team è assolutamente siciliano e siamo orgogliosi di esserlo e anche le aziende appunto sono siciliane. Menti vulcaniche che in tre anni di studi hanno trasformato calcoli e numeri in oleogrammi e meccanismi di intelligenza artificiale riconoscibili dell'essere umano, per salvarlo ad esempio da un sovraccarico di corrente, aiutarlo in una specifica operazione, avvisarlo della necessità della manutenzione nella macchina o, se va via, attivare il risparmio energetico. Adesso si deve passare alle vie di fatto. I partner del progetto Xenia, Morpheus e Università di Catania hanno brevettato l'intero sistema e la seconda fase, quindi dopo questa prima progettazione, sarà quella di industrializzazione per creare un prodotto reale e finale che potrà essere immesso nel mercato.